Dio non salva a distanza, ma ama i suoi figli con la dolcezza e la pazienza di una madre. Lo ha sottolineato Papa Francesco all'Omelia della Messa alla Casa Santa Marta. Traendo spunto dalla liturgia del giorno, il Pontefice si è soffermato sulla tentazione in cui l'uomo tante volte cade cercare di controllare la grazia del Padre Celeste come se fosse una merce. In particolare Papa Bergoglio ha ricordato i farisei, i risischiavi dalle tante leggi che caricavano sulle spalle del popolo, i sadducei con i loro compromessi politici, gli esseni buoni ma senza il coraggio di rischiare, gli zeloti per i quali la grazia di Dio era la guerra di liberazione. E così questa verità tanto bella della vicinanza di Dio scivola in una contabilità spirituale. Io faccio questo perché questo mi darà 300 giorni di grazia, io faccio quell'altro perché questo mi darà questo e così accumulo grazia. Ma cos'è grazia? È una merce. E così sembra di sì. Sembra di sì. E nella storia questa vicinanza di Dio al suo popolo è stata tradita per questo atteggiamento nostro egoista di voler controllare la grazia e mercificarla.